Buone notizie per i non vedenti, la battaglia della Lega è andata in porto? Sì, assolutamente sì, perché grazie alle nostre pressioni e devo dire anche molto insistenti, soprattutto averlo messo fra le priorità, il Governo ha consentito tramite un emendamento del relatore effettivamente a dare i 6 milioni e mezzo per i ciechi, perché noi ritenevamo assurdo, assurdo togliere a queste persone già purtroppo bistrattate dalla vita, togliere anche pure i fondi, cosa che il Governo stava facendo e invece grazie a noi è stato ripristinato un loro diritto.